Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, siamo su Regenzione Apple Giochi e questo video sarà una presentazione vlog, in quanto adesso vi presenterò un nuovo progetto che abbiamo pensato di fare e dopo parlerò delle news del canale e dei progetti di Facebook. Allora, questo nuovo progetto è una rubrica che si chiama iTech News e in questa rubrica parleremo di notizie relative alla tecnologia trovate su siti internet, giornali, riviste. Saranno notizie secondarie, però comunque anche molto interessanti. Quindi se questa idea vi piace, scrivetelo nei commenti e ovviamente mettete un like al capito. I progetti futuri invece saranno dei video sulla beta di Yosemite che io ho installato sul mio Mac quindi farò dei video per far vedere come funziona, le caratteristiche principali e poi vi farò vedere anche il feedback assistant che ho appena usato prima di fare questo video perché ho avuto dei problemi con lo spotlight che cioè quando cercavo qualcosa sulla rete tramite il spotlight il spotlight non mi ha preso a farlo. Poi subito dopo ho avuto anche dei problemi per riavviare il Mac e mandarlo sulla partizione di Maverick che non riuscivo a riavviarlo. Quindi vabbè ovviamente è una beta e quindi ci sono vari problemi. Poi ci sarà il live dell'evento Apple di settembre che sarà tra il 12 e il 15 settembre e poi subito dopo l'evento live ci sarà un altro video che però non vi posso rivelare perché sarà una sorpresa mi raccomando guardatelo perché sarà una fia da Stato Stega. Quindi vi ringrazio per aver visto questa presentazione barra vlog e ci vediamo sulla rubrica iTech News e sul prossimo video che farò. Ciao a tutti ragazzi!